Buongiorno, sono la dottoressa Francesca Ianni Lucio del centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. Con l'implantologia computer guidata il dentista può pianificare l'intervento implanto protesico in maniera più efficace, sicura e con meno trauma per il paziente. Come funziona l'implantologia computer guidata? Il paziente si reca nella nostra struttura, viene effettuata una TAC 3D che viene importata nel software. Attraverso questo software noi possiamo pianificare l'intervento di implantologia direttamente sul computer. Il comfort per il paziente aumenta notevolmente, viene ridotto il tempo alla poltrona, l'intervento è praticamente già programmato. Si ha la certezza della tipologia dell'intervento in quanto si pianifica già al computer quale è la lunghezza e il diametro dell'impianto che deve essere inserito, evitando così di toccare le strutture anatomiche delicate, quali il nervo alveolare inferiore oppure anche i seni macellari o l'arteria linguale. Il comfort per il paziente lo notiamo anche nel postoperatorio perché utilizzando le mascherine chirurgiche non devono essere aperti i lembi gengivali e anche i punti di sutura si limitano semplicemente all'opercolo muco gengivale che viene aperto per l'inserimento dell'impianto. È limitato il gonfiore postoperatorio, i lividi postoperatori per cui il paziente può tornare alla sua vita nella maniera più normale. Quindi con l'utilizzo dell'implantologia computer guidata l'intervento per il nostro paziente è già deciso prima, diversamente da quello che è invece l'intervento di implantologia tradizionale in cui tutto deve essere deciso nel momento dell'intervento chirurgico.